Ma abbiamo Erika e Roxanne che ci portano Chiara Ferragni, pubblico, Isoca è felice I miei capelli sono più forti dei danni Nuovo Pantene con formula intelligente Smart Pro V Riconosce punti deboli e aiuta a rinforzarli Per capelli imbattibili fino all'ultimo centimetro Capelli forti, capelli Pantene La mia settimana? 5 voli, 10 pettinature e capelli sempre splendenti Ritocco? No, Pantene Ampolle rigenera un minuto Con la nostra formula Pro V più concentrata aiuta a riparare a fondo Capelli più forti, visibilmente più sani Capelli Pantene